Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla grave situazione che si vive tra gli operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela, secondo giorno di blocchi sulle strade di accesso alla raffineria. Preoccupazione, rabbia tra i lavoratori destinatari della lettere di licenziamento. Montano l'attenzione, la rabbia, la preoccupazione tra i lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela, secondo giorno di blocchi in via mare ed in via generale Cascino. Gli operai hanno trascorso la notte dal ghiaccio. I licenziamenti pervenuti ai dipendenti dell'elettroclima rappresentano un pugno allo stomaco. Situazione parallela o quasi vivono quelli della nuova ex gamma e della SMIM in pianti. L'indotto, l'abbiamo detto in altre occasioni, è una polveriera pronta ad esplodere. Una volta le sorprese arrivavano nel luogo di Pasqua, adesso l'abbiamo trovato anche a Natale. Niente, noi aspettiamo risposte e vorrei lanciare un messaggio diciamo anche ai commercianti che anche loro secondo me stanno attraversando un brutto periodo. Qua è una catena, non lavoriamo noi, non lavorano i commercianti, si ferma tutto. Perché non lavorando voi non spendete, dunque il commerciante non guadagno. Eh sì, hai detto bene. Come si fa a vivere in queste condizioni, considerato che purtroppo, come sottolinevamo, sotto l'albero di Natale avete trovato licenziamenti? Non cresce un dramma, mica ormai è un problema. È diventato un dramma, perché ormai il licenziamento non è più un problema, mica c'è un lavoro che vado a lavorare da un'altra parte adesso. È un dramma questo. La riconversione mai partita della raffineria, così come sottoscritto il 6 novembre del 2014, al Ministero dello Sviluppo Economico ha di fatto fermato lo stabilimento. I lavoratori sono sull'astrico. Oltre il lavoro e il dramma che stiamo passando, stiamo passando anche delle difficoltà familiari. Soprattutto familiari, perché non portando niente a casa, abbiamo discussione. Diciamo, la famiglia si può anche rompere. E questo grazie ai politici e grazie all'Ene che sta facendo un giro di un gioco troppo sporco. Non soltanto elettroclima, non soltanto no ex gamma, ci sono anche tanti altri lavoratori che purtroppo stanno vivendo una situazione difficile, ci riferiamo anche ai lavoratori della Sbim. Secondo te come bisogna fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza? Perché noi ci eravamo visti l'anno scorso di questi tempi e abbiamo parlato sempre dello stesso problema. Il 16 di dicembre sono stato pure io ad Agoradavoi, quindi è passato un anno da quel incontro e mi sembra che è cambiato poco. Io penso che ormai è ora di mescarsi tutti assieme e di fare una vera lotta. Perché ormai siamo arrivati, come si suol dire, volgarmente alla frutta. Perché ormai non c'è più spiraglio e le parole ormai sono diventate quelle che sono diventate. È meglio di metterci insieme, di fronteggiare questo problema che ormai è diventato un problema no serio di più. Ma i blocchi che voi avete istituito non consentono ai lavoratori del diretto di entrare alla raffineria? No, completamente. Non esiste. Non esiste. No, no, completamente. Intanto Cigelle e Cisleville chiedono il blocco di tasse e rate. Davanti alla protesta i sindacati si sono rivolti alla prefettura di Caltanissetta. Mirano ad ottenere il blocco immediato di pagamenti come IMU e Tasi, oltre alle rate di prestiti e mutui accesi dai lavoratori sempre più in difficoltà. I segretari Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania in questo modo mirano a rendere un po' meno pesante la quotidianità vissuta dalle famiglie degli operai rimasti senza occupazione. Per questa ragione si sono rivolti anche al sindaco Domenico Messinese e al presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Asia. E sulla vicenda Eni abbiamo raccolto oggi la testimonianza del presidente della regione, Rosario Crocetta. Quanto sta accadendo a Gera nelle ultime ore non può passare inosservato. I patti non erano questi, gli operai non devono assolutamente essere licenziati. Un vero e proprio allarme sociale. Lo dice il presidente della regione, il giudese Rosario Crocetta. Io interverrò immediatamente nei confronti del governo, chiamato il ministro Guidi, oggi stesso, e chiedendo l'immediata convocazione in un tavolo nazionale, anche perché cosa può fare la regione? La regione sta prevedendo una serie di investimenti per Gera, anche propri, si sta proponendo nel patto per lo sviluppo della Sicilia al governo nazionale, indicando anche interventi molto forti, anche per la città di Gera e i termini merezzi, che sono aree di crisi. Però qui è chiaro che c'è da fermare lei rispetto a queste questioni, che deve anticipare una serie di lavori immediatamente per dare commesse all'intotto, perché non è che possiamo pensare che nel momento prima che si arrivi alla ricompersione della raffineria, in pratica ci troviamo metà dell'intotto licenziato. Io intervengo subito dicendo che questo è inaccettabile, assurdo, non sta nei patti, assolutamente, perché l'intesa non è quella di licenziare la gente di chiudere, è quella di riconvertire. E allora l'Eni deve essere chiamata alle sue responsabilità, e questo va fatto insieme, in modo forte, insieme alle organizzazioni sindacali, insieme al Governo nazionale e intervengo immediatamente. Il Governatore della Sicilia ha garantito una sua presenza a Gela, a difesa del posto di lavoro degli operai. La prossima settimana prevedo un incontro specifico che voglio fare proprio con i laboratori, metterlo d'accordo con i sindacati. Io sono con i laboratori, li sosterremo, e ti informerò immediatamente, ti informerò immediatamente in relazione alle cose che mi dirà il Ministro Guidi, che chiamerò immediatamente. Presidente, le chiedo, ma quando partirà la riconversione, Eni? È chiaro che ci vuole il tempo per realizzare gli investimenti. Il tema è però che noi dobbiamo trovare quelle soluzioni intermedie che individuano il licenziamento, non è che nell'emore della riconversione. Questo non può andare assolutamente bene. È inaccettabile, non è nei fatti, e ne li devono rispettare completamente l'accordo con i sindacati. E io chiamerò direttamente il Governo a intervenire. E delle gravi tensioni sociali create dai licenziamenti dell'Elettroclima e della nuova X-Gamma, che hanno portato ai nuovi blocchi da parte degli operai dell'indotto, si parlerà questa sera ad Agora. Il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, accenderà i suoi riflettori sul dramma occupazionale che ha investito la città di Gela dopo l'addio senza condizioni che la politica ha permesso ad Eni. Con ospiti in studio che rappresenteranno le varie componenti di questa amara vicenda, saranno ancora una volta i lavoratori e soprattutto i disoccupati i protagonisti principali di questa nuova puntata di Agora. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 sulla nostra emittente. La pagina politica, una vera e propria bufera, si è battuta sul Partito Democratico di Gela. Il circolo Gela Città, rappresentato dalla segretaria Giuseppe Licata, ha annunciato che gli iscritti al circolo non prenderanno parte al congresso convocato per il prossimo 20 dicembre dalla segretaria provinciale Giuseppe Gallè. Non parteciperemo, si legge in una nota, al congresso di questo PD. Noi immaginiamo e vogliamo un altro partito democratico. Non partecipiamo ad un congresso falsato nei numeri e nelle regole che viola palesemente dei principi democratici e statuari. Non partecipiamo ad un congresso che non risolverà i problemi del PD fondato sulle faide interne che mira ad eleggere non un vero segretario. Noi ci fermiamo, ci autosospendiamo da questo PD. Vogliamo ed immaginiamo un altro partito democratico. Riteniamo, si legge ancora nella nota, essenziale in questa fase la creazione di un unico circolo territoriale, lo scioglimento dei tre circoli. Vogliamo il ripristino delle regole democratiche e della dignità della politica. Il senso della politica si smarrisce quando l'orizzonte rimane solo il misero ed inutile potere. La tattica non può prevalere sui principi e sul futuro della città, anche perché abbiamo visto e constatato le esperienze del passato. La decisione è il frutto di un deliberato del direttivo del circolo cittadino del PD, la città è già inviato agli organi di garanzia regionale e nazionale del PD. Un'opera che affronta tematiche che riguardano la cultura della legalità, il disagio giovanile, l'impegno civile e i valori dello spirito. Uno spettacolo ricco di sorprendenti occasioni di riflessione che spaziano quasi per caso dal razzismo al bullismo, dalla tossicodipendenza al disagio giovanile, in una intelligente altalena di momenti di grande commozione e altri di inaspettata comicità che riescono a tenere sempre viva l'attenzione anche dei giovani spettatori. Un invito all'amore e alla fratellanza, un invito a guardare la vita con occhi diversi. E' quanto proposto oggi nella Romagna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela dalla compagnia Il Teatro d'Autore, diretta dall'attore e d'autore Carmine Pagano. Don Gelmini disse che questo spettacolo è come un rapido volo di un uccello che dall'alto vede tutte le brutture umane. Infatti uno spettacolo parla di tossicodipendenza, di razzismo, di bullismo, di amore per se stessi e per gli altri, attraverso proprio questi argomenti particolari. Insomma, è un invito a guardare la vita con occhi diversi, con gli occhi del cuore. Noi cominciamo con una scena della rinuncia alla ricchezza da parte di Francesco D'Assisi o San Francesco D'Assisi, per chi crede oppure per chi non crede. Comunque questo personaggio che ha avuto il coraggio di rinunciare alle cose ricche della vita e apprezzare le semplicità delle cose. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. La scuola Romagnoli è sempre stata sensibile su queste tematiche e quindi ritiene sempre opportuno nel momento in cui dal territorio e anche extraterritorio provengono delle sollecitazioni molto forti in tal senso, immediatamente recepirle. Ci è sembrato giusto destinare naturalmente ragazzi di terza, perché sono i ragazzi in qualche maniera più maturi, sono i ragazzi che per la loro età si avvicinano alla fase della responsabilità individuale, sempre più corposa, sempre più concretamente rilevabile e rilevante. E allora ecco il ricordo attraverso uno spettacolo, uno spettacolo che appunto probabilmente è a volo d'uccello, ma proprio perché tocca e al tempo stesso, così come è proprio nella tecnica di apprendimento dei ragazzi di oggi, saltella da un punto all'altro, senza necessariamente andare in profondità, ma dando già l'idea, l'immagine complessiva di quello che possa essere un mondo dove le brutture, la violenza, la divaricazione estrema tra il senso del bene e il senso del male è già molto loro presente. E allora a quel punto, attraverso questo spettacolo per dei ragazzi di terza, noi facciamo un lavoro di educazione, un lavoro di informazione e ci auguriamo un lavoro di aiuto alla crescita. Due incontri a difesa della sanità per il sindaco di Gela in trasferta a Palermo, audizione congiunta delle commissioni affari istituzionali e servizi sociali e sanitari in relazione all'avvertenza della clinica Santa Barbara. Il presidente di quest'ultima struttura ha annunciato il riassorbimento delle nove unità licenziate che verranno riqualificate come operatori socio-assistenziali. Assieme all'assessore Simone Siciliano, a sindacati e ad associazioni locali come ADMO e Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Messinese ha incontrato l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi. Dal componente della giunta regionale abbiamo avuto ampie rassicurazioni sulla permanenza Gela delle commissioni mediche di invalidità civile, ha detto il sindaco. Un passo importante che scongiura l'ennesima migrazione di un servizio indispensabile che, voltando le spalle all'utenza gelese, avrebbe aggiunto difficoltà ad un segmento debole della nostra popolazione. La vagina della cronaca nera fiamme ieri sera in via Ticino, nel quartiere Baracchia Gela, colpita la reno scenicca di una donna rumena che vive nella zona. L'incendio sembra d'origine dolosa. L'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela aderisce all'evento didattico più popolare al mondo. Si tratta dell'Ora del Codice, un movimento globale che coinvolge decine di milioni di studenti in oltre 170 paesi nella settimana annuale di educazione all'informatica. Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, nell'ambito del progetto Programma Il Futuro, inserito tra le iniziative del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, fornisce alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base della programmazione informatica. Un evento a cui parteciperanno tutti gli alunni della scuola per imparare la programmazione informatica, questo nuovo linguaggio che loro sconoscono perché sono fruitori di tecnologia, sanno leggere la tecnologia ma non la sanno scrivere. Quindi con queste iniziative iniziamo a gettare i semi di questo nuovo linguaggio. Qual è stato il feedback ricevuto? Noi abbiamo appeso dei cartelloni e loro poi hanno scritto le loro impressioni, sono tutte positivissime perché loro magari non si rendono conto che stanno ragionando, stanno creando, per loro è solo un gioco, però molto istruttivo. I ragazzi sono abituati ad essere spettatori e fruitori di prodotti informatici, delle nuove tecnologie in generale, però è importante che facciano una riflessione di fondo sui processi logici che sovrintendono a quei prodotti che loro poi utilizzano comunemente. E tra gli obiettivi che si pone questa iniziativa, quella di aderire alla settimana internazionale del codice, è proprio fare quella riflessione, portare i ragazzi a non solo promuovere il pensiero computazionale, come si dice oggi, ma proprio ad avere un'idea più approfondita di quello che loro normalmente trattano. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di imparare i principi ed i concetti base della programmazione informatica. È riconosciuto che l'ora del codice stimola la creatività, la capacità di risolvere i problemi e sarà utile per qualsiasi carriera gli studenti vorranno intraprendere. A me è piaciuto perché così si imparano anche cose nuove e miglioro anche a scuola, ma non mi è piaciuto che molto spesso finisci con un mal di testa terribile. È l'ora del codice che mira ad una educazione informatica, sbarca al Museo Archeologico Regionale di Gela. Appuntamento previsto per domenica 13 dicembre dalle 9.30 alle 13.00. L'evento gratuito che negli anni passati si è svolto, come abbiamo visto, nelle scuole con ampia partecipazione di studenti, è stato organizzato da Coder Doio Gela e da Google Developer Group Gela. I partecipanti di ogni età saranno coinvolti nello scoprire la storia del nostro territorio prima visitando il museo e poi riportando nel mondo virtuale dei videogiochi di quanto appena appreso. Mostra d'arte contemporanea mediterranea a cura di Salvatore Parla Greco si tratta domani alle 18.00 nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presiduta in Sicilia da Maria Ventura. Sarà presente tra gli altri Salvatore Guelli, sovrindendente ai beni culturali di Enna. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale. Open Day domani dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 all'Istituto Tecnico Industriale Emanuele Morselli di Gela. Al momento sono attivi i progetti rivolti agli alunni delle classi terze che riguardano attività tecnico-pratica di chimica che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì. Il referente dell'orientamento è il professore Marco Arnone. Diversi modi di rappresentare il Natale con creazioni di ogni parte del mondo. È uno spaccato di cultura e sensibilità che abbraccia tutti i continenti. La mostra sui presepi allestita da un'insegnante di religione. Lei è la gelese Tania Tallarita. L'esposizione può essere visitata gratuitamente nei locali del chiosco di Ruben, al porto di Fugio. Ho avuto sempre questa passione per la religione in sé per sé. Da piccola collezionavo dei santini sacri, poi mi sono messa a collezionare dei presepi. Ne ho di diverse nazionalità, diversi continenti, alcuni abbastanza ricercati. Uno di quelli che mi piace moltissimo è quello eschimese. Infatti ho realizzato anche io la struttura perché è uno dei più belli per me. E perché proprio quello eschimese? Cosa c'è di bello rispetto agli altri? Perché è uno dei più ricercati e non è facilmente trovabile sul mercato. Quanto tempo impieghi per realizzare questa bella mostra? Un paio di giorni, anche una settimana. E poi conservi tutto per l'anno prossimo? Sì, ogni anno faccio questa bella mostra, sia a casa o ora in questo locale. E c'è un impegno che tu assumi con i tuoi amici, con i tuoi parenti, perché ogni volta vanno all'estero o anche in Italia devono portarti un presepe. Sì, da ognuno che parte chiedo di portarmi questo presepe e molti me li hanno regalati, oltre a comprarli. E continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela. Fino al 6 gennaio, nei locali di Palazzo Ducale, mostra di presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Da oggi e fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi Albero della Vita, nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio, nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Fino al 15 dicembre, invece, nella chiesetta San Biagio, mostra dell'artigianato femminile creative Natale 2015. E proseguono gli appuntamenti in occasione dell'ottantunesima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 13 dicembre, alle 19, nei locali di Palazzo Pignatelli, quartetto lirico strumentale con Giovanna Nuara, soprano, Pinella Sciacca e Sabrina Ciliberto al pianoforte ed Elisa Vita al clarinetto. E adesso occupiamoci della presentazione del progetto cinematografico Gelone e del regista Gianni Virgadaula. Gelone, il tiranno, lo stratega e il campione di Olimpia. Questo è il progetto cinematografico che lei ha ideato e scritto, anche la sceneggiatura, e che tra poco sarà girato. Ci può un po' raccontare questo progetto? Sì, come ho detto in altre circostanze, è un progetto molto antico. Direi che sono almeno 20 anni che sta lì in un cassetto pronto ad essere realizzato. Speriamo che questo, anzi, questa sicuramente sarà la volta buona, perché è già da un anno che lavoriamo e nonostante sia un progetto ardito, complesso, ambizioso, crediamo di avere le possibilità per conturre in porto questa barca che poi ha una finalità, quella di riscoprire, di rivalutare la bellezza di un periodo nobile, aureo della Sicilia antica, la Sicilia greca del V secolo. Quindi il personaggio di Gelone diventa pretesto per raccontare anche questo periodo importante della nostra storia. Questo è un progetto veramente bello e interessante, perché non solo per le fattezze scientifiche che ha il progetto, ma anche per i contenuti di promozione potenziali che ha il progetto stesso. Non vedo perché il nostro territorio non può essere attenzionato pure con delle fission, eccetera, perché veramente la storia è passata di questi luoghi, specialmente il protagonista Gelone, dove Gela diventa una massima potenza economica e lo dimostrano tutti i reperti che noi abbiamo all'interno di quel museo. E quindi può essere, e sicuramente lo sarà, una vetrina per essere guardata da tutto il mondo. Una notizia di sport monta l'attesa per la partita di domenica prossima al Presti. Il Gela del tecnico Totò Brucculeri se la vedrà con il dattilo noir. Si tratta di una partita di alta classifica in eccellenza. Si affronteranno infatti quarta contro seconda, divise da soli due punti. La partita, lo ricordiamo, avrà inizio alle 15. Il costo dei biglietti è il seguente, 8 euro in tribuna e 5 euro in curva. Le donne in tribuna pagheranno 5 euro. Arriva le grande Gets a Gela, appuntamento oggi al Teatro Comunale con Francesco Cafiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre invece Antonella Ruggero. Venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi, lo ricordiamo, è previsto per le ore 21. Per informazioni, rivolgersi al botteghino, c'è un numero telefonico 0933 91 18 92. Lo ripetiamo, 0933 91 18 92. È Natale in casa Cupiello. Si tratta dell'appuntamento previsto per domani alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco Enrico Guarneri. La regia è di Antonello Capodici. Per informazioni, lo diciamo poc'anzi, il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. E ancora parliamo di teatro e di cinema. E Leone nel Basilico, il film in programmazione al Cine Teatro Antidoto di Macchitella, sono tra gli orari 17.30, 19.30 e 21.30. E lunedì 28 dicembre alle 21.00 la compagnia tetrale Antidoto porterà in scena Nabbrisco, la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri. La regia è di Giancarlo Bella. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.